Disney Pixar Soul, in streaming il 25 dicembre su Disney+. La musica è il mio pensiero fisso. Dal momento in cui mi sveglio la mattina al momento in cui mi addormento la sera. Sono nato per suonare. È la mia ragione di vita. C'è nessuno? Ma che? Cosa? Oh mio Dio, oh mio Dio! Aiuto! Non ho finito! Oddio, oh mio Dio! Strano. Non tornano i conti. Un'anima manca all'appello. È il paradiso? No. Allora è l'inferno? Inferno? 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 I coyoti vi guarda. No. Ti trovi nell'antemondo. Dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Siamo arrivati. Che è successo? Aspettate! Tranquillo. Un'anima qui non può essere schiacciata. Per quello c'è la vita sulla Terra. Wow. La mia vita. Mi aiuti a tornare indietro. Andiamo. Non sarà un disastro, questo è scelto. Tu sei qui, mia piccola anima. E ti troverò. La vita offre mille opportunità. Basta sapere dove guardare. Ti perdi le cose belle della vita. Come la pizza. Non sento i profumi. E neanche... Neanche i sapori. Quella roba fa parte del corpo. Niente olfatto, né gusto. Ottatto. Visto? Ok, capito. Disney Pixar Soul. Preparati. La tua vita sta per cominciare. In streaming dal 25 dicembre.